Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Come sempre ci informiamo e anche molto bene su quali siano i giorni di festa che sono attesi durante l'anno, sia lavorativo ma anche scolastico. I ragazzi non vedono infatti l'ora di stare assieme ai loro amici e alle loro famiglie. Per chi ama i periodi di relax basti pensare che quest'anno ci saranno molti giorni di vacanza. Stiamo parlando dei cosiddetti ponti, ovvero di quei giorni che cadono a ridosso delle festività nazionali e che consentono di beneficiare di più giorni di vacanza. Si comincia diciamo male in quanto quest'anno salterà il ponte dell'Immacolata. Tale festività infatti cade di domenica, ma questo consentirà agli studenti e anche ai lavoratori di godere a pieno del maxiponte di Natale che quest'anno prevede ben 17 giorni di stop delle attività scolastiche. Dopo qualche mese arriverà invece il ponte di Pasqua che quest'anno cadrà vicino la festa del 25 aprile. Ed ecco che quindi oltre ad organizzare tempo permettendo le scampagnate primaverili, si potrà godere di altri 10 giorni di vacanza. Anche questo ponte quindi niente male per chi vuole staccare un po' la spina. Ricordiamo inoltre che ci sono altre festività cerchiate in rosso come ad esempio il primo novembre, che consentirà di godere di un ponte di tre giorni e anche il ponte del 2 giugno da sabato 31 maggio. Insomma anche quest'anno i ragazzi potranno godere di parecchi giorni di vacanza grazie ai ponti, la scuola nell'anno scolastico 2025 terminerà tra il 6 e il 10 giugno. Ovviamente bisogna fare caso al calendario regionale in quanto non in tutte le regioni la scuola comincia e finisce nella stessa data.